Sa, ma quando escono dall'asilo? Ciao mamma! Ciao ragazzi! Su, andiamo a casa a fare merenda. Sì! Poco dopo a casa? Eccoci a casa. Prendo la merenda nel frigo. Voi posate lo zaino in camera vostra. Ok mamma. Hai sentito oggi all'asilo che parlavano di un certo spettacolo? Sì, io non ho molto capito. Magno anch'io, ero troppo intento a giocare con le costruzioni. Sì, anch'io stavo facendo altro, ma secondo me faceva parte di una storia. Sì, infatti. Allora ragazzi, com'è andata l'asilo oggi? Gli ultimi giorni? Sono sicura che vi divertite un mondo. Sì, è stato molto... Aspetta, in che senso gli ultimi giorni? Già! Nel senso che tra qualche giorno sarete in vacanza, avete finito l'asilo. Poi a settembre iniziate poi la scuola elementare che è totalmente diversa. Io non sto capendo, neanch'io, non torneremo mai 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 più all'asilo? Sì, ma ascoltate, le maestre non ve l'hanno spiegato a voi dell'ultimo anno. No, ma perché? Cosa ti vogliono spiegare? Già, mamma, mi stai preoccupando. Tranquilli ragazzi, è una cosa normale. Voi fate tre anni di asilo, poi finite e farete gli elementari. Ma io, io non voglio lasciare l'asilo. Neanch'io, mi piace tanto e poi non mi piacciono gli elementari. Ma non ci siete mai state. Coraggio, vi divertirete un mondo e poi domani c'è lo spettacolo per voi che lo finite. Scusate, sono al telefono, torno subito. A te questa faccenda convince? Neanche un po', io non voglio lasciare l'asilo. Già, e domani faremo la recita. Già, gli diremo addio. Io non voglio fare la recita, è come dire addio all'asilo. Neanch'io, non siamo obbligati. Già, domani non la faremo. Ma non finiremo neanche l'asilo, non decide lei per noi. Già, noi non diventeremo mai grandi. Esatto. E ora andiamo a fare un gioco davvero da piccoli. Sì. Questo pranzo è davvero buonissimo tesoro. Grazie amore. E così dopo vai a prendere i bambini? Sì, e poi oggi pomeriggio c'è lo spettacolo. Non vedo l'ora di vederlo, saranno fantastici. Già, faremo migliaia di video e foto. Oh, sì. Dopo. Eccoci a casa. Oh, ciao ragazzi. Siete pronti per fare lo spettacolo? Glielo diciamo. Sì, tanto al fine ci scopriranno. Quindi ragazzi? No! Eh? Come no? Eh, non lo so, vado a parlargli. Avete chiuso? Ragazzi, aprite, sono la mamma. Non ti apriremo per nulla al mondo. Già, noi non vogliamo fare lo spettacolo. E voi non potete obbligarci. Oh, e perché non volete abbandonare l'asilo? Oh no, guarda, secondo te perché cos'è? Ma dai ragazzi, anche noi abbiamo fatto lo spettacolo dell'addio all'asilo. Se non lo fate, non lo saluterete mai. Ve ne andrete così. E anche un modo per salutare le maestre. Già, e poi ci rinfresco e giocate con gli amici. Wow, che bello. Noi non vogliamo abbandonare l'asilo. E neanche iniziare gli elementari. Sembrano schifose. Tutti descrivono come un posto noioso. Coraggio ragazzi. No, no, no. Alla sera. Siete pronti? Dobbiamo andare. Sì, coraggio, dai ragazzi, andrà benissimo. Siete super belli. Va bene, andiamo. Su, vi divertirete un mondo. Eccoci qui. Mmm, ho paura. Coraggio ragazzi, andrà benissimo. Dai, ragazzi, venite. Dobbiamo iniziare a fare lo show. Sì, dai, sarà super divertente. Mmm, ok, arriviamo. Noi adesso ci sediamo a guardarvi. Ok. L'asilo è stato fantastico. È stata come un'avventura in un bosco. Mi sono divertita molto con i miei amici. Sono pronta per gli elementari. Wow, cantano benissimo. È loro che non volevano andarci. Bravi ragazzi, siete dei miti. L'asilo sì, ci mancherà. Ma siamo pronti per gli elementari. Poi ci saranno gli nostri amici con noi. Elementari, stiamo arrivando. Bravi. Uh, complimenti. Grazie. Wow, wow. Jason, siamo stati bravissimi. Già, ragazzi. Ora andiamo al rinfresco. Sì. Bene, ragazzi. Il nostro episodio finisce qui. Speriamo vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo cantare la canzone. Già, e voi eravate tristi quando avete lasciato l'asilo? Oppure ce l'ho lasciato? Perché magari ci sono anche i bimbi piccoli che guardano questo canale. Già. Oppure siete dei fratellini, incoraggiate. Dai, lasciare l'asilo non è così male. Già, perché gli elementari sono bellissime. E poi fare lo spettacolo è super divertente. E il cibo è super buono. Ragazzi, iscrivetevi. Lasciate like. Condividete questo video. E noi ci vediamo in un prossimo. Ciao, un bacio e un abbraccio!